Un aumento di 2,2 centesimi al litro. E' questo il risultato dell'accordo stipulato ieri dalla Centrale del Latte di Salerno e le associazioni di categoria degli allevatori di bovini da latte salernitani. A differenza dell'attuale prezzo di 38,8 centesimi a partire dal 1 gennaio, ogni litro di latte crudo di alta qualità prodotto in provincia sarà pagato 41 centesimi. L'accordo tra le parti, arrivato dopo mesi di trattative, prevede però due fasi tecniche di modulazione dei prezzi. In pratica dal 1 gennaio alla fine di marzo il nuovo prezzo del latte sarà appunto fissato a 41 centesimi. Per l'intero mese di aprile invece ci sarà una riduzione di un centesimo che porterà il prezzo di produzione a 40 centesimi al litro. Il costo del latte crudo semplice è stato invece fissato a 39 centesimi al litro, che da aprile diventeranno 38. Nessun cambiamento dovrebbe esserci sul versante prezzo di vendita del latte. La soglia attuale di 1,15 euro al litro non dovrebbe avere aumenti. Nel testo dell'accordo inoltre si legge che la centrale del latte si impegna a valutare la necessità o meno di un aumento dei propri listini al pubblico, per un limite massimo di 5 centesimi.